Ciao, sono Davide. Oggi filmiamo una dimostrazione del STWIN, uno dei nostri kit di evaluazione per il prototipo e il sviluppo di applicazioni industriali avanzate, come monitorazione di condizioni e mantenimento pregettivo. Questo video sarà parte dell'evento di testa di sensore online che stiamo facendo dal 23 al 25 giugno. Aggiungiamoci per scoprire tutti i nostri prodotti e soluzioni per l'applicazione di sensazione.